In arrivo 17 milioni per la città di Arezzo per la riqualificazione urbana e delle periferie fondi stanziati dal governo grazie alle risorse della legge di stabilità. I 17 milioni di euro sono stati chiesti dal comune di Arezzo per risolvere problemi di recupero di periferie particolarmente degradate. Se il governo confermerà la disponibilità, come sembra, di questi 17 milioni di euro, bravo il governo che ce li ha dati, bravissimo il comune che li ha chiesti. Per le periferie prevalentemente Pescaiola e Saione, che sono quelle nei quali è più necessario un intervento pesante, sia da un punto di vista infrastrutturale, penso al doppio sottopassaggio in località Baldaccio, penso al passaggio pedonale protetto tra il parcheggio Baldaccio e il centro città, penso agli edifici che hanno bisogno di un pesante ripensamento delle funzioni e dei sistemi anche di riduzione del rischio sismico. È tutta una zona che deve essere riqualificata sulla base sulla quale è stata espressa una forte progettualità da parte del comune. Grazie.